Buon pomeriggio. Nel nostro spazio canale Associazione Paese delle Donne ospitiamo oggi Maria Chiara Mattesini, una ricercatrice e l'autrice di un'opera che si chiama Forme di democrazia diffusa, buon governo e mondi vitali, interventi e discorsi di Maria Paola Colombo Svevo. Noi vogliamo sapere tutto su Maria Paola Colombo Svevo, che è stata una figura politica di grande profilo sia in Italia che in Europa e della quale Mattesini ha dedicato uno studio corposo, approfondito, però che si legge bene e molto ben suddiviso. Ma prima di andare oltre nella presentazione di questo volume, intanto chiediamo all'autrice che è anche giovane come autrice, però è una ricercatrice, è un pensiero politico contemporaneo presso il Dipartimento di Storia, Patrimonio Culturale, Formazione e Società dell'Università degli Studi di Roma Tor Vergata, oltre a essere una giornalista, professionista e una collaboratrice articolista con varie naturalmente testate prestigiose, come e perché ha scelto di dedicare gran parte del suo tempo a ricostruire questa figura di Maria Paola Colombo Svevo. Buon pomeriggio e grazie per questa occasione, anche di questa occasione per parlare di Maria Paola Colombo Svevo. Perché ne tratto così molto, così tanto? Ho già scritto una sua biografia politica. Le biografie politiche sono poche, biografie politiche delle donne. Ancora meno sono quelle delle donne cattoliche, come disse Paola Gaiotti De Biase, un'altra cattolica, scontano una sorta di tabù nel tabù e quindi rischiano spesso di essere ancora dimenticata e messa nell'oblio. Maria Paola è una figura, come lei ha detto, importante. Ha fatto molte cose e per questo ho voluto continuare una ricerca su di lei, anche per capire nel concreto le proposte legislative in questo caso che ha promosso. Leggi come nuove regole del gioco. Noto con piacere che per quanto riguarda le biografie la ricerca sta andando avanti e mi piace sottolineare un'ultima uscita che riguarda la biografia politica di Tuglia Carrettoni. Sulle raccolte dei discorsi e degli interventi al Senato, alla Camera, c'è ancora pochissimo, ma questo è il quarto volume. Ci sono state le raccolte della Lina Merlin, Nilde Iotti, ultimo Marieletta Martini e adesso questo. Ecco, quindi un input a proseguire in questo lavoro. Quindi dai nomi citati e dal materiale che non sappiamo esiste, c'è un ampio vertaglio di biografie che riguardano persone che appartengono a fedi politiche diverse, perché la fede è personale, ma si tratta di posizionarsi in un areale del Parlamento che abbia delle caratteristiche. Ora, l'impegno di Maria Paola Colombo Svevo è cominciato come assessora al Comune di Monza e alla Regione Lombardia, è diventata poi senatrice della Repubblica e parlamentare europea. In questo breve spazio direi di focalizzare la sua figura in questi quattro passaggi, attraverso appunto i discorsi e le pagine che ha scritto. Come assessora al Comune di Monza e alla Regione Lombardia. Qual è stato il contributo? È stato un contributo culturale e politico. Insieme, ad esempio, ha promosso l'istituzione di Asilinido. Gli Asilinido non erano ben visti dalla cultura cattolica, in quanto ritenuti usurpatori di un ruolo spettante soltanto alle famiglie. Ecco, in questo caso Maria Paola ha fatto un'opera di modernizzazione, di pacificazione, come dire, con la modernità. Con la modernità si intende il tempo che trascorre con tutte le novità che ci presenta e che ci offre anche. Questo è un esempio. In Lombardia il suo cavallo di battaglia è stata la realizzazione del piano regionale dei servizi socioassistenziali. Un piano che mirava a, innanzitutto, decentrare i servizi, quindi l'importanza del territorio, della territorializzazione dei servizi, che non dovevano essere considerati come assistenza, ma come diritto alla salute. E accanto all'aspetto sanitario-medico, ecco anche la valutazione degli aspetti formativi, educativi, psicologici. In questo senso, per esempio, anni dopo ritornerà sulla questione dei consultori. A suo avviso diventati eccessivamente, come dire, centri medici di quasi sola distribuzione di contraccettivi, privandosi anche dell'altra altrettanto importante funzione di supporto, consiglio, in determinati percorsi delle donne e delle coppie. Ecco, questo è molto sinteticamente... Infatti, già sono tanto parole importanti e parole forti. Rispetto infatti ai consultori, niente come loro, come essi, in Italia, è stata fatta macchia di leopardo. Intere regioni non ne ha avuto neanche uno. Ecco, il funzionamento poi è stato tra i più variabili, certamente molto giocato a ribasso anche per via dell'obiezione di coscienza. Quindi la questione dei consultori rimane tutt'oggi aperta e avere delle persone, delle figure che si sono impegnate su esse è molto importante. Dalle pagine di questo libro, di questo bel libro che è proprio una bella biografia, emerge una complessità di figura di Maria Paola Colombo Svevo che ha ritratti anche molto avanguardistici, cioè molto fuori dallo schema normale, dal tessuto, dall'albio in cui, in teoria, la sua posizione politica la poniva. In come senatrice della Repubblica eh in Italia. Quali legislazioni ha sostenuto? Eh dunque, lei è stata senatrice o nominata nell'ottantatré eh fino al novantaquattro. Eh quindi in anni insomma particolarmente turbolenti eh per la cosiddetta Repubblica dei partiti. Eh poi è stata nominata al Parlamento Europeo dal novantaquattro al novantotto. Comunque al Senato è rimasta dall'ottantatré ininterrottamente fino fino al novantaquattro. Eh come dicevo in anni molto molto difficili per il suo partito di appartenenza, non l'ho ancora detto scusate, la democrazia cristiana e per la sua stessa città di Monza che venne commissariata eh in seguito all'arresto di alcuni suoi colleghi di partito. Eh quindi un dramma che le donne cattoliche, le donne democristiane hanno vissuto senza poi avere tutte queste colpe. Ecco quindi è stato un dramma nel un dramma nel dramma. Eh se si leggono i discorsi di Maria Paola eh soprattutto gli ultimi appunto degli anni novanta ma già prima emerge questa questa consapevolezza di appunto di nuove regole del gioco, un'espressione che 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 menziona, che usa spesso lei e indubbiamente ha fatto parte di di un'elite culturale diciamo degli anni ottanta che si era donata attorno al gruppo di Progetto Donna insieme ad altre figure come Vilma Preti per esempio Tina Leonzi, Leonzi ecco che hanno ha costituito sicuramente un'intelligenza mh all'interno della DC che mh forse non è stata sufficientemente apprezzata. È un attraversamento eh d'altronde quello che ha passato lei l'hanno passato in tante proprio per questo doppio ruolo di vicinanza e di lontananza rispetto agli eventi che accadevano e poi appunto l'innocenza di colpevolezza questo è un altro paio di mani che però eh non è che la responsabilità politica generale è una cosa, la responsabilità individuale nelle cose è un'altra quindi eh e questo eh si può dire abbia toccato qualsiasi parte del nostro Parlamento. Il rispetto al contributo di Maria Paola Svevo eh Colombo Svevo in sede europea. Il il suo nome sicuramente è legato al tema al tema della tratta nella tratta del degli esseri umani eh è stata importantissima la sua la sua azione eh la risoluzione che ha presentato poi approvata per far emergere questo questo problema che non emergeva anche a causa dei diversi punti di vista adottati dai membri dell'Unione Europea, dei paesi membri dell'Unione Europea a riguardo della prostituzione e sono domande ancora attuali se lo chiedeva Maria Paola nuova forma di libertà o un nuovo una nuova forma di schiavitù? Eh ecco il suo nome è legato a questo all'aver fatto emergere un un dramma una cosa che l'ha caratterizzata infatti il far emergere il problema il gli invisibili un altro tema tema scabroso di cui si è occupata ad esempio è stato quello delle delle sette pseudo religiose allora un tema come dire non affrontato insomma neanche di cui neanche si era preso consapevolezza eh si è occupata delle un problema ancora molto rovente questo delle delle frange o comunque delle realizzazioni di questo tipo sì sì e si è occupata anche della della parità di 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 salario eh tra uomo e donna eh si è occupata anche di cooperative sociali per quanto riguarda la il mondo femminile ecco questi sono stati diciamo grossi sempre molto brevemente i suoi i suoi ambiti eh la famiglia i servizi sociali con un occhio sempre riguardo rivolto alla alla questione femminile nell'indice ed è un indice molto nutrito un indice molto nutrito come l'opera eh ci sono dei capitoli eh il primo dei quali si intitola la libertà di fare il bene e poi segue a favore della famiglia insieme alle donne in Europa autonomie locali e territorio democrazia e rappresentanza eh mi soffermerei su quest'ultimo democrazia e rappresentanza data il valore di queste di queste due parole eh che sono in pieno dibattito oggi eh leggendo i contributi di Maria Paola Colombo Svevo eh ci sono delle notevoli anticipazioni ne vogliamo parlare? Ma una cosa che a me ha colpito, incuriosito, interessato è stato come anche come dire una buona dose di umiltà insomma anche come ha ha rivisto, riflettuto e ripensato il ruolo dei partiti in una società allora come tuttora complessa eh dove come dice giustamente Danilo Zolo per complessità si intende la dilatazione delle possibilità di esperienza e di azione dei soggetti eh ecco in questa in questa società complessa eh ha rivisto in maniera appunto originale il ruolo dei partiti non pu non più elemento di mediazione ma elemento di individuazione dei nuovi temi di attualità delle nuove chiavi di lettura delle nuove possibili interpretazioni punti di individuazione non più di mediazione perché la società eh come dire si è sufficientemente ehm autonomizzata eh ha preso sufficientemente consapevolezza di se stessa eh siamo sulla scena del sessantotto eh gli anni settanta pensiamo all'importanza della democrazia di base le forme le nuove forme di partecipazione del dal basso i mondi vitali questa è un'espressione del sociologo Achille Rigo eh chiamava chiamava così questa nuova rigeneratività sociale ecco questa è una cosa che mi ha colpito e che penso sia un elemento di di attualità ecco la funzione dei dei partiti una loro anche un loro anche ridimensionamento questo è un aspetto che mi ha interessato un altro contributo interessantissimo riguarda la frantumazione del consenso anche questo di grande attualità sì anche questo di grande di grande attualità eh e qui vengo a un altro elemento che mi ha incuriosito e interessato perché Maria Paola appunto eh in questa frantumazione in questa in questa complessità che ci rende tutti più autonomi ma anche più conflittuali più egoisti ehm ecco non Maria Paola dice ma forse non non è più il caso di andare alla ricerca di un minimo comune denominatore che come scrivo nel libro giustamente è l'assillo dei tanti politici e studiosi eh che sarebbe una forma quasi di di prigionia forse meglio come dire ehm offrire le le numerose opzioni valoriali e e su di esse e su di esse discutere ma appunto senza più cercare quel minimo comune di valori ehm Pierluigi Castagnetti lo spiega bene nell'introduzione Maria Paola era così era una che faceva rete con credenti con non credenti musulmani ebrai ebrei cattolici ehm questo era il suo modo il suo modo di lavorare nella prefazione e stiamo percorrendo il percorso il filo rosso di questo libro che appunto ricostruisce una biografia ma ricostruisce anche un'epoca ed è un'epoca larga della metà del novecento il secolo breve ma non tanto breve perché è durato parecchio e ha molti stracci che ne presenta la prefazione di Pierluigi Castagnetti ehm si ricorda ehm si ricordano anche gli editi di della senatrice e eh si ricorda anche la sua attenzione sia alla forma letteraria sia alla purezza del linguaggio eh sia anche alle alle tante lotte che ha portato avanti come per esempio quella la tossicodipendenza perché ci sono degli interventi della Slevo che riguardano anche le droghe sì sì eh dovendo avendo dovuto fare una selezione eh alcune cose non le ho non le ho messe questa però grazie per averlo ricordato è una delle delle tante questioni di di cui si è occupata anche Maria Maria Paula Colombo Svevo sì eh che anche in questo caso senza un atteggiamento pregiudiziale eh esclusivamente punitivo ma anche qui con l'intenzione di di comprendere un fenomeno e e di studiare come dicevo prima è stato il suo metodo osservare studiare ed elaborare nuove regole del gioco nuove leggi. Allora chiudiamo questa necessariamente breve intervista ma che spero sia stata seguita con interesse perché le parole pronunciate i temi dati sono estremamente interessanti con una riflessione proprio sullo scritto di Maria eh Maria Chiara Mattesini forme di democrazia diffusa che anticipa eh tutto il volume eh un piccolo assunto da parte mia? Certo. Ma da parte mia un piccolo assunto ecco lo 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 ricavo dal dal titolo che anche questo è stato eh laborioso ehm forme di democrazia diffusa questa è una bella una bella espressione buon governo e mondi vitali buon governo attraverso le leggi che spero quelle delle donne vengano continuino ad essere assiduamente studiate e mondi vitali come dicevo prima un'espressione del sociologo Achille Ardicò per come dire ricostruire e bilanciare eh armoniosamente stato e cittadinanza e grazie mille. Una parola di più si possa dire su questi due assiomi che insomma sono veramente dei pilastri stato e cittadinanza. Una riflessione? Bisogna sporsi ogni età. Bisogna buttarsi e con un libro così importante e così anche intrigante allora ecco. Bisogna dire anche cosa si pensa oltre che a Maria Paola Colombo Svevo cosa pensava lei attraverso? Penso. Penso che ecco le sue leggi siano state un un innesto sano di almeno nelle intenzioni di democrazia diretta eh all'interno della nostra democrazia rappresentativa ecco un sano innesto di democrazia diretta attraverso il volontariato un tema che non abbiamo toccato importantissimo attraverso il decentramento l'importanza del locale eh non inteso riduttivamente o in senso nostalgico di di medie medio evi perduti assolutamente no. Ecco sì mh innesti di democrazia diretta all'interno della democrazia rappresentativa come dicevo prima per bilanciare e rendere il più armonioso possibile il rapporto fra stato e cittadini e cittadine altrimenti diventa quella che la società di OBS. E quella non la vuole nessuno e nessuna penso. E allora noi chiudiamo questo spazio di cui appunto mi scuso della verità però non dell'interesse e ehm ricordando che nel in retro copertina eh si parla proprio anche della trasformazione delle leggi eh che sono state varate e alle quali ha contribuito notevolmente l'opera di Maria Paola e Paola Colombo Svevo e di altre del suo partito la democrazia cristiana in correlazione con altre di altri partiti perché eh c'è stato un momento della vita politica italiana nella quale la relazione tra senatrici è stata più adatta diciamo possiamo dirlo con sicurezza eh di quella che si nota adesso ecco c'è stata una certa traversalità eh su alcuni temi che toccavano tutta la società intera molto sensibili. Io ringrazio moltissimo la studiosa eh Maria Chiara Mattesini e mh perché questo libro appunto completa un toglie un'assenza che è appunto di questa senatrice e speriamo che studi e scriva di altre eh colmando altri vuoti eh che non sono soltanto nella nostra storia collettiva ma sono anche nelle nostre percorsi di crescita personali. Come credo che questo sarà fatto un ordine un ordine diciamo bisogna continuare continuare a fare. Allora grazie e spero arrivederci a presto e un grazie a tutti quelli che ci hanno seguito. Grazie. Arrivederci. Arrivederci.